Sì lo so, buongiorno, oggi è sabato, uno dovrebbe stare sereno in vacanza come sono io, però in realtà leggi i giornali e ti viene veramente il sangue al cervello. Oggi il sangue vero al cervello, perché vedete quello che è successo è che è plastica la divisione nella stampa italiana. Alcuni, diciamo il paradosso, vi faccio vedere il paradosso proprio dell'informazione italiana. Da una parte c'è la stampa, no? Della famiglia Agnelli, il canne. Il titolo della stampa oggi ve lo leggo perché è veramente una roba da pisciarsi dalle risate, verrebbe da dire, no ma ve lo devo leggere, ve lo devo leggere quello della stampa perché secondo me non ci credono neanche loro nell'averlo fatto il titolo. 100 miliardi per ripartire! Sostanzialmente ieri hanno provato il decreto di agosto, salvo intese tecniche, un unicum della storia mondiale, salvo intese tecniche, e la stampa in prima pagina, il titolo di prima pagina dell'apertura della stampa del giornale di Torino è 100 miliardi per ripartire. È ovviamente una fake news, come dicono quelli della stampa quando si parla di cose che riguardano gli altri, perché ieri il decreto vale 25 miliardi e lo devi sommare evidentemente agli 80 miliardi dei fessati decreti che ci siamo già fumati. Nel frattempo, accanto a questo titolo a tutta pagina, che poi vedremo essere semplicemente falso perché 100 miliardi non ci sono, c'è un altro titolo ed è il seguente, ve lo leggo, conte zone rosse, vi ricordate la questione delle zone rosse, scoppia il caso, e fino a qua ci siamo, Conte e Fontana sotto accusa una stronzata. Anche questa è una follia, perché il problema delle zone rosse non riguarda Fontana, poi potete starvi sulle balle Fontana, potete dire che a differenza di tanti altri è un mascalzone, quello che volete, ma qui il caso di oggi è un altro ed è quello da cui partiamo. Partiamo dal giornale di apposizione, dal giornale. Anzi no, possiamo dire una cosa? Partiamo dal messaggero, perché il messaggero, a differenza della Repubblica, della stampa e del Corriere della Sera, dice una cosa molto semplice, bugie Covid, bugie Covid. E la storia è molto, ma molto semplice, bisognerebbe andare anche sul Corriere della Sera, che non se ne accorge in prima pagina, ma se ne accorge con un pezzo nelle pagine interne di questo famoso verbale del Comitato Tecnico Scientifico del 3 marzo. E fa tutta la ricostruzione di quello che succede. E succede una cosa molto semplice, e cioè che il 3 marzo il Comitato Tecnico Scientifico, dopo aver fatto una lunga videoconferenza proprio con Fontana e Gallera, anzi con Gallera, scusatemi, col suo direttore generale, capiscono che la situazione ad Alzano Lombardo è un disastro. Annambro è un disastro, Annambro è un disastro. E quindi che cosa dicono? Bisogna fare la zona rossa. Perché bugie Covid? Perché il 3 marzo, adesso io non so se sia giusto o sbagliato, ma il 3 marzo questa cosa il Comitato Tecnico Scientifico dice. Quelli che oggi si dicono che i treni non devono essere un metro, quelli li ascoltano, fanno esattamente tutto il tappetino, la politica del Comitato Tecnico Scientifico. Gli dicono di chiudere Alzano il 3 marzo e questi non lo chiudono. E voi direte, beh, la responsabilità della politica si assume anche le sue responsabilità, lì possono sbagliare tutti. No, non è così. Perché poi quando Conte va dal PM di Bergamo che indaga, dice, io non ho mai saputo e nessuno mi ha chiesto di chiudere Alzano Lombardo, facendo pensare che sia colpa di Fontana che non l'ha mai chiuso. Cosa che era evidente che Fontana non poteva chiudere con i carabinieri una zona. Lo capisce anche un bambino piccolo così? Non è che i carabinieri sono guidati dal presidente di una regione, però siccome noi dobbiamo darla in quel posto a Fontana e a Gallera è la colpa di Gallera e di Fontana. Mentre qua è del tutto evidente che il Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile a Roma, dopo aver sentito la regione Lombardia, dice in un verbale che è stato desecretato dovete chiudere queste due zone e farle diventare rosse e che cosa fa il governo? Non lo fa. E diciamo che qui può sbagliare, ma dice anche una bugia. E questa è la cosa grave, perché interrogato Conte dice, ma io non sapevo niente del verbale. Oggi da qualche parte, adesso la mia verità, il verbale arriva da me il 5. Falso, perché non è neanche vero questo. Ma anche se fosse arrivato il 5, quando viene interrogato a giugno dai magistrati, doveva dire, ho letto questo verbale, non dice niente, niente. Tra l'altro oggi il suo difensore d'ufficio è in grande imbarazzo, come si chiama Travaglio. Perché è in grande imbarazzo? Perché parla di un'altra vicenda, che è la seconda vicenda scandalosa, che oggi ricorda il mattino, ricordano altri giornali. Il punto che il Comitato Tecnico Scientifico, il 3, non solo dice il 3 di chiudere questa roba della Lombardia, ma prima diceva non chiudere tutto, chiudi le regioni dove c'è più casino. E il governo se ne fotte. E il 9 marzo chiude tutto. E Travaglio difende, come quelli che difendono la retroguardia, difende sulle accuse passate. Quindi il governo, primo, ha chiuso tutto in ritardo quando il Comitato Tecnico Scientifico diceva di non chiudere tutto. Secondo, ha ignorato il vero problema che era in quelle regioni, in quelle due comuni, e ha fatto punto, fischiettando, ha fatto fitta di nulla. Ricorda chi se ne ricorda oggi sul Messaggero. Sapete che Niconfi mi considera un negazionista. Ho poca simpatia per chi mi definisce negazionista, ma lui ha poca simpatia per esempio per il New York Times, che è stato celebrato pomposamente da tutti i giornali sul fatto che l'Italia ha un modello in tutto il mondo. Dice, toc toc, per fortuna che i faziosi ci sono anche nei giornali stranieri. Perché definire il modello italiano il modello migliore del mondo è una cosa assurda. Pensate, dice, basta fare i calcoli, in Italia sono morte 58 persone ogni 100.000 abitanti in America, la disastrata America, 46 ogni 100.000. Qual è il modello migliore del mondo? Certo, non il nostro. Beh, fantastica poi Sallusti, perché oggi Sallusti ricorda queste bugie di Conte, dice, ma noi non vogliamo che si dimetta Conte, ma semplicemente è un qua, quara, qua. E in realtà più che qua, quara, qua, lui è veramente come il verbale dimostra che Conte ha mentito. È semplicemente un mentitore, un mentitore su una vicenda per cui sono morte decine di persone. I tecnici sostanzialmente chiedevano di chiudere e quello ha detto che non aveva mai ricevuto una comunicazione di chiusura. Insomma, patetico il fatto che ricorda invece una cosa, diciamo che non c'entra assolutamente nulla. Fatto, travaglio, 3 marzo, chiusura di quelle zone rosse, non 7 marzo, perché poi il 9 marzo chiuderà tutta l'Italia invece di chiudere solo la Lombardia, sto pazzo. Ma il punto non è che noi si rimproveri a Conte di essere stato troppo severo, ma di essere stato completamente un divago, facendo il fenomeno come sempre, perché lui non si può toccare. Si è già sentito Aldo Moro, secondo me. Nel frattempo i giornali, fantastici, vi ho detto, parlano del decreto di agosto. Nel decreto di agosto in realtà ci sono varie misure, piccole misure. Cottarelli oggi sulla Repubblica, nonostante Repubblica, la stampa Citi, 100 miliardi per la ripresa, tutte manchiate, dice, tanti bonus, ma non c'è una strategia, cosa che gli stiamo dicendo tutti quelli che sono un po' analisti che vanno a vedere questa cosa da settimane. Tanto il blocco dei licenziamenti, questi geni fanno il blocco dei licenziamenti, ne scrivo anche sul giornale, insomma pensano di bloccare dei licenziamenti in quella maniera dire e far finta che il termometro non funzioni della crisi in questo paese. Pensate, il fatto riesce a schiare, pagina 3 del fatto, hanno trovato un giornalista che riesce a trovare una tesi per cui il blocco dei licenziamenti è stato fatto per troppo poco tempo. Per troppo poco tempo, cioè facciamo il blocco dei licenziamenti nei prossimi 5 anni. Certo, se uno come il fatto che perde un milione e mezzo di euro all'anno, poi se ne fa prestare due milioni e mezzo con la garanzia pubblica, beh, se tutti ragionassero come il fatto, probabilmente i licenziamenti li dovremmo tagliare a tutti quanti. Altra questione che è stata fatta, il rinvio delle tasse che erano state sospese, non per l'ISA, noi, partite IVA, eccetera. Per le tasse sospese aprile, mangio e giugno ci sono la possibilità di pagarlo con una serie di rate azioni. Poi ci sono 470 milioni per invitaria, cioè per del commissari, per alcuni, per entrare in, come si chiama, in ILVA. Quindi ILVA, mascherine, banchi di scuola, tutto in mano ad alcuni perché ha dato un buon prova di sé durante l'emergenza. C'è un condono per i concessionari delle spiagge, cioè quelli che non hanno pagato e sono incontenzioso con lo Stato, infatti il fatto su questo se ne accorge, insomma i rigoristi del fatto che il condonino ai concessionari delle spiagge paghi il 30% e risolvi tutti i tuoi problemi con lo Stato, non so quanto gli è andato giù. Poi c'è, invece, la cosa più importante sono queste famose misure per il Sud che sono la riduzione del 30% dei contributi sociali per i dipendenti del Sud. Sono 3,5 milioni i dipendenti privati del Sud su 20 milioni di dipendenti italiani. Questa roba qui è un alleggerimento del costo del lavoro per le imprese al Sud di 7,5% ed è strutturale. Provenzano dice in un'intervista oggi finalmente delle misure di sinistra. Questa è una misura che spesso è venuta al Sud e la fiscalizzazione degli oneri sociali, si chiamavano nel passato, c'è sempre stata in maniera più o meno organizzata, cioè far pagare un po' di meno il costo del lavoro al Sud c'è stato. Io non sono neanche contrario di per sé, ma il punto fondamentale qua è il Nord, è il PIL, è la produttività, le società meccaniche, i servizi che sono completamente rasi al suolo. Se pensiamo di risolvere il problema dell'Italia facendo una decontribuzione al Sud siamo pazzi. Cerchiamo nel momento peggiore della storia economica italiana con il PIL che è cresciuto, diminuito del 13%, di risolvere l'annoso problema del Sud, non rendendoci conto che qual problema è di tutta l'Italia, purtroppo non solo del Sud, Sud che ovviamente problemi ne ha, ma che non è che si risolvono adesso con questa bottarella che gli dai nella maggiore crisi italiana dopo guerra, ma se loro piace raccontarla la raccontassero. Lotta al contante, anche questa è una bella operazione da fare, la lotta al contante oggi su zafferano.news, che è il sito perpetuamente gratuito di Riccardo Ruggeri, insomma c'è un straordinario approfondimento su come la lotta al contante sia una minchiata di proporzioni gigantesche. Il governo invece ci crede e con quello risolveremo i nostri problemi. Ecoincentivi alle auto, sostanzialmente sapete quanto sono, erano 50 milioni, sapete quanti sono gli ecoincentivi alle auto oggi sul sole 24 ore? i dati ufficiali del rifinanziamento che, salvo intese tecniche, dovremmo avere ad agosto sono 250 milioni, cioè per le auto ibride ed Euro 6, cioè le vere auto, quelle che hanno ancora un costo decente, non le minchiate alla Tesla, sono 250 milioni. Sapete quanto ha messo di incentivi alle auto la Francia, un altro grande produttore di auto? 8 miliardi! Sapete quanto la Germania? 7 o 9, adesso bisogna leggerlo secondo i dati precisi, 7 o 9 e 8, noi diamo 250 milioni, complimenti. Nel frattempo l'unica cosa che ho letto sul Corriere e non sul sole, che potrebbe essere importantissima in questo decreto, ma che nascondono perché se la fanno sotto così, è che avrebbero tolto la causale ai contratti a tempo determinato, se rinnovabili dopo 12 mesi. Cioè prima, con quella cagata del decreto dignità fatto da leghisti e da grillozzi insieme nel maggio dell'anno scorso, quando ancora governavano insieme, di due anni fa, avevano deciso che i contratti a termine dovevano morire. Quindi dopo 12 mesi o c'era una causale molto stringente o non c'era contratto a termine. Zitti, zitti, nella notte come i ladri di Baghdad, pare che nel decreto di ieri abbiano tolto la causale. Vedrete che non dura questa roba qua. Ma se così fosse, sul Corriere della Sera sarebbe l'unica cosa buona fatta da questo governo in emergenza. Pillole dell'aborto, la RU 846 o 486, resa libera, cioè si può prendere anche senza essere ospedalizzati, questo ha deciso il ministro Speranza, gode come un riccio Repubblica perché non si occupa delle bugie di Conte, non si occupa dell'economia, non si occupa del Covid, ma della libertà delle donne. Michela Marzano se ne compiace, le pagine 2 e 3 della Repubblica a queste sono dedicato. Nel frattempo la questione Beirut, il presidente Aoun, ci sono tutti quanti i giornali, dice che non è esclusa la pista dell'attentato, quindi quello che soltanto in base alle banalità delle nostri ragionamenti due giorni fa pensavamo, oggi lo dice anche il presidente Aoun, mentre nascerà là il capo degli Hezbollah terroristi filo iraniani che insanguinano il paese e lo detto, secondo il regista che abbiamo letto ieri, assistente di Tarantino, essere la vera causa del disastro libanese, si rivedono in televisione e dicono la loro. Beh, fantastico. Jay Axe, uno che tra un bicchiere d'acqua e l'altro si fa un cannone, cosa che mi ricordo il Rai essere un problema per tutti quanti i tecnici che veramente stavano storditi quando si avvicinavano a lui, nulla di grave, perché mi sembra che si possa fare utilizzo di marijuana liberamente in questo paese, ma non spacciarla, ci spiega qual è il modo per cui vivere sani e diciamo corretti politicamente, e cioè indossare la mascherina, ma questo mi andrebbe anche bene, perché indossare la mascherina è cosa buona e giusta, ma il punto fondamentale non è neanche tanto che Jay Axe, il cantore trapper, gli piacerebbe del politicamente corretto spiega ai ragazzi mettete la mascherina, insomma io non mi farei mai spiegare da lui che cosa fare, ma comunque non è questo il punto, il punto è il titolo, cioè non fate come i politici mettete sempre la mascherina, ecco questo è il, cioè e dove finiscono, non fate come i politici, è sempre colpa dei politici, i politici secondo me hanno una colpa diversa, cioè che sono talmente caga sotto che la mascherina se la mettono anche al bagno e non è questo il tema forse, no? Vabbè ma comunque lasciamo Jay Axe al suo moralismo che piace tanto alle persone che piacciono, avrà un bellissimo programma in Rai, mi immagino Mediaset, non so dove ce l'abbiamo, chissà che non mi censurino per questa mia piccola invettiva, Telepass agli svizzeri, 49% dell'azienda di Atlantia andrà a un fondo svizzero, bella l'intervista a Beccari che è il numero uno di Dior che ha portato la moda dal vivo a Lecce e apre di cielo perché sovraintendenza, quei deficienti quando ci sono delle associazioni, non so, dei consumatori, sfreggiata Lecce, grazie a Beccari e a Lecce e a quello che lui ha detto oggi sul Corriere della Sera, un po' di idea di riprese in questo paese ci sa, c'è, mentre tutti frenano noi corriamo, grandissimo presidente di Dior, della pillola dell'aborto vi ho parlato, il treno del rimpasto è come titolo la Repubblica, cioè ancora Boschi e Orlando vorrebbero tornare al governo secondo Repubblica e vorrebbero far fuori evidentemente Bonafede o Azzolina o chi per loro. Direi che per oggi è tutto, ci vediamo domani, mi raccomando, mi raccomando, seguite sempre quello che vi consiglia J-AX. Ciao!